ciao a tutti amici e amiche benvenuti in questo mio nuovo video quello della decorazione della settimana settimana dal 26 di febbraio addirittura al 4 marzo siamo già arrivati a marzo quindi nel video successivo questo sicuramente troveremo la prima pagina di marzo la mia prima pagina che come al solito decorerò insieme a voi ma cominciamo pure con la decorazione perché non so neanche io come la farò andiamo subito a vedere lasciamo perdere il flip truck insomma non c'è molto da vedere questa settimana e quindi comincerei subito proprio con la decorazione allora come prima paginetta mi piacerebbe fare una piccola composizione wow Grazie a tutti. 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 Un ritaglio di qualcosa che avevo trovato su qualche rivista, però va bene, non può venire tanto bene perché ci sono tutti gli spazi dentro, ok, va bene, dai. Va bene, così ce lo faccio. E' un piacere. Questa volta almeno, questa volta almeno sarà la prima pagina, mi ripeto sempre, quindi volta più, volta meno, e vi ando il mio solito mondo di baci e tanta, tanta positività. e ci vediamo in ciò, ci vediamo inizia, ma noi ci vediamo la primaButtoni, mi puoi bisogna